Musica Fa il debutto nei campionati seri di La Marignanese, il nuovo corso nei castro Cervelieri, ma unito al nome di Cattolica, gli ospiti scendono in campo con la casacca giallorossa. L'avversario è il Saravezza, anch'essa al debutto nel torneo, in quanto domenica scorsa la gara è stata rimandata per ambedue le formazioni a causa Covid-19. Il più ottio dei match è dei padroni di casa, Manelli non in quadri bersaglio, risponde subito la Marignanese, con l'ex Belaria Zanni, l'attaccante fa tutto bene ma calcia debolmente tra i guantoni dell'estremo di casa. Ospiti che vanno vicinissimo al vantaggio, dall'angolo Nodari colpisce a botta sicura con Orsini che salva a porta e risultato. La Marignanese insiste, domina per lungo e largo, la rossa mette al centro per Palazzi che di testa mette a lato, il Saravezza passa in vantaggio proprio sul fine di tempo ed è una beffa per la Marignanese, lancia a cercare Grassi che mette al centro per il copo di testa vincente di Verratti. Sarà questo il gol partita per l'1-0 del Saravezza, in pieno recupero Grassi cerca il raddoppio, ma Piai alza in corner dall'angolo successivo. Ancora un'occasione per il padrone di casa con Macabruoni che trova sulla propria strada negale a George del gol, ancora una volta il portiere Piai. Nella ripresa la Marignanese cerca il pareggio, da calcio piazzato Macabruini debia in corner la punizione di Mannuzzi. Il Saravezza soffre, Orsini si complica la vita da solo ma Rizzitelli non ne approfitta. In contropiede la Marignanese spiega ancora una grossa chance per il pareggio, Rizzitelli non trova allo specchio della porta. E ancora Marignanese sugli scudi, Sov non riesce a incidere come vorrebbe ed è sfortunato in questa occasione, come è sfortunato nel finale. Davvero la Marignanese domina in lungo e in largo ma non riesce proprio a trovare i gol del pareggio. Mercoledì il recupero in casa contro l'Agnanese.